La base bassa, quindi alziamo la base. Magari vi appasso anche un pelo. No, dicevo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e poi attacchi. Va bene? Vado. Iniziamo così. Adesso mi facciamo. Ok. Il disco nasce l'anno scorso, mentre stavo riguardando la filmografia di Lynch, ero arrivato a Twin Peaks. Mi sono domandato come mi sarei comportato ad approcciarmi a un certo tipo di musica noir. Avevo voglia di provare a realizzare una mia interpretazione di musica noir. Perché Lynch è riuscito a distruggere il genere noir e a ricostruirlo con dei codici diversi, pur rispettando alcune cose, alcuni cliché del genere. Nella musica, a differenza della cinematografia e della letteratura, non c'è proprio un codice di musica noir. Ci sono delle, non so come posso dire, dei parametri, dei riferimenti. Mi viene in mente il capolavoro di Miles Davis, Ascensore per il Patibolo, oppure appunto Angelo Badalamenti, che ha costruito la sua, ha costruito insieme a Lynch un nuovo genere di colonna sonora, un nuovo nuovo genere di musica noir. Appunto, nella musica, non essendoci un filone ben preciso, io mi sono costruito dei miei riferimenti noir. Per dire, molti, sono una band che è partita dai risultati ottenuti da Badalamenti, potrebbero essere appunto i Boren e Ander Club of Gore, che hanno, sono partiti appunto dal suo lavoro, per poi portarlo avanti, proseguirlo e personalizzarlo, strecciandolo e dilatandolo tantissimo. Mi interessava molto questa cosa, in qualche modo, del prolungamento del lavoro altrui. Mi sono chiesto, tu, come compositore, come autore, come faresti per definire, per dare la tua definizione del noir. E da lì mi sono cimentato e ho cercato di costruire i miei codici, i miei simboli. L'idea è nata, perché molto spesso, quando inizio un lavoro nuovo, devo, in qualche modo, costruire una narrazione. In questo caso, la narrazione l'ho costruita creando un eteronimo, questo eteronimo si chiama Harry McCluskey. e, in sostanza, mi sono imposto di raccontare una storia che aveva come protagonista appunto questo personaggio. Ovviamente non è una storia letteraria e questo non credo che, cioè, questo mi è servito più che altro nel processo creativo. Ovviamente io faccio musica strumentale, quindi, e non ci sono parole, però avere una narrazione mi serve per giustificare determinate scelte armoniche, cioè inserire un personaggio in un contesto, in alcune scenografie musicali, architetture, mi aiuta molto per dare una continuità alle tracce e al racconto di questa storia attraverso i suoni. La cosa interessante è che l'etichetta per cui pubblicherò, musica.org, ha come linea editoriale il fatto che richieda appunto agli autori di raccontare la storia del disco tramite, appunto, raccontare le tracce che compongono il disco. e combaciava perfettamente con il canovaccio che avevo costruito, su cui avevo costruito questa narrazione sonora a cui dovevo dato anche una narrazione letteraria. Parlare di un disco, pubblicizzare la propria musica in maniera venale, diciamo, in maniera tecnica, non credo che abbia senso. Credo che abbia più senso allora, tra virgolette, fare alcune considerazioni su il contesto in cui ci si muove oggi come compositore nel 2024, il periodo storico è abbastanza complesso e stratificato, sicuramente i social network non hanno aiutato, anzi, forse ci stiamo accorgendo oggi che sono un problema, forse è più quello che ci tolgono che quello che ci danno, mentre invece doveva essere un'altra cosa. Questa comunicazione illusoria non porta a molto, non aiuta. credo che bisognerebbe tornare a una comunione di intenti tra virgolette, tra musica di nicchia, mentre invece mi sembra di avvertire che spesso capita nella musica d'avanguardia o sperimentale, che dirci voglia che ci sia all'interno di essa un particolare snobismo e anche un modo, sì, snob, di comportarci che non aiuta questa cosa qui. Mentre anni fa, nei festival, mi capitava di incontrare i gruppi più disparati, oggi mi sembra che in qualche modo ci si stia specializzando sempre di più in micro generi, e questi, diciamo, è come se l'Italia fosse divisa in cortili, in piccoli cortili, e questi cortili non riescono bene a comunicare tra di loro. I nomi sono sempre quelli che girano, ma c'è poco scambio. E invece è molto interessante quando ci si contamina vicenda, quando musicisti collaborano con altri, quando c'è una comunione di intenti, un'eterogenesi dei fini, e quindi il fine quale sarebbe? Il fine sarebbe cercare di alzare l'asticella a livello culturale, magari stando meno a guardare, io faccio quella roba più figa, e tu fai quella cosa meno sperimentale, tu sei più d'avanguardia, tu sei più elettronico, io credo che queste diversificazioni non aiutino al contesto, e anzi, li separano sempre di più, l'individualismo, il solipsismo ormai è imperante, appunto deriva da, secondo me, anche quella è una deriva social, abbiamo fatto finta, cioè abbiamo accettato tutto senza batter ciglio, però adesso ne stiamo pagando le conseguenze, un po' come con la plastica, la plastica era una grande rivoluzione, adesso abbiamo le isole più grandi della Lombardia in giro per gli oceani, non sappiamo come gestirla, i social stanno facendo la stessa cosa, il bello è che sono molto più potenti della televisione, perché ci mutano antropologicamente a una velocità estrema in confronto alla televisione, negli anni 90 però si poteva essere, gli intellettuali erano critici nei confronti della televisione, e c'era una critica abbondava, forse anche troppo, oggi non c'è critica contro i social, anzi, gli intellettuali ci sono dentro, li usano per avere i follower, e questa illusione di avere una comunicazione, oppure gli youtuber, è bello perché vedi youtuber che fanno canali culturali dove in realtà non c'è mai una comunicazione, lasciano sempre un piccolo spazio alla fine per le domande, come se fosse, e lo format è sempre quello televisivo, non comunichi tu con i tuoi follower, non c'è una vicinanza, questo secondo me è il dramma, è il vero dramma culturale, e ne paga, paga la musica, la cultura, la letteratura, soprattutto, ed è sotto gli occhi, quindi la soluzione è sotto gli occhi, ma nessuno fa niente, e ne paghiamo le conseguenze. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!